Il nome l'aveva scelto lei. Arturo! Che era niente. Non pesava niente. È arrivata. L'ho sistemata nello stanzino. Là c'è il bidet. Quando ti devi lavare, puoi usare l'acqua del bidone. Le tue cose le puoi mettere qua. Le birre sono del porco. Non glielo diciamo al porco. Che scampi di lui, eh? Come un piccerito. C'ha i peri sulle braccia, in mezzo alle gambe. Poi la barba gli cresce, poi la minchia. Ma lui non cresce. Forse hai trovato un posto dove può andare. Ma decidi sempre tutto tu. Quando uno deve restare, quando uno se ne deve andare. Ponto fino a tre. Uno, due, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Insomiglia a tua mano. 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 36, 37. E senti dai, non aveva mai abbastanza. E senti dai, non aveva mai abbastanza. Sì. 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 Grazie.